Saluti, benvenuti a FURIADROGIUSU LITERARIUSU OI, APUSTISI DE MERA PUNTARAS A DORRAUSU A FUEDDAI DE BOESIASA EDUVEUSU UNDUNU ESPERTO DE SU SETTORI UNDUNOMINI DE GUSTA COSAS ANDA PARISCIA DE DEMPOSU ANDA PARISCIA MERA SA DU CONOSCIOUSU MELLUSU IN GUSTA PUNTARAS Saluri, benvenuti a sui professori Angelo Spiga Saluti, saluto a tutti, suoi grazie, buon messo e si riavo Dica, sui professori, fostei esti norio brusche e totto in quartuccio in gusto che si siede a Sinterla, a Casteldaio ma poi i vostri ambienti, io sa comprendi come ti Angelo Spiga esti un uomini e uno sanguanà onorio in tutta questa Sardigna e non scetti in Sardigna ma in tanti si, poi i amici su di Sosulci si stroghi di Sino, ma chiedo chi ne esti, vostei ita fatto in Savira e poi ita esti a capia una reuso a su un mondo dessa poesia sarda Deo ha poi traballato sempre su un mondo dessa scuola poi insegnavo, poi sono diventato direttore didattico e presidi come si è accaduto mi sono menzionato nel 2009 dopo 42 anni di servizio e quindi però nel proprio momento mi sono sempre interessato dei problemi della Sardigna, dei problemi della lingua sarda e della poesia io ho scattato un gruppo di amici su, con i scali su, io ho scattato e devo tagliare in attesa i problemi che ha capito su, sa valorare e mantenere a guardare in paese la lingua sarda e la poesia I su esti, su professori Angelo Spighesti, su presidenti di un associo, un associo di importo che traballenti di Diora esistirà impari po' imparai Sto chiedendo di me lo so, su voi ita dei gusti nomini, professori I gusti nomini, quando si sono riuniti, avevamo un gruppo, appunto, commentavo prima un gruppo di amici su, io ho deciso di avere nomini, io ho scelto uno parco però se io ho scattato, impari, ha fatto questo nome, impari poi imparai impari un gruppo di amici su che traballa di impari, poi imparai e imparai in sardo tenete due significati imparai in sardo e imparai in sardo e quindi se io ho scattato su impari poi imparai in sardo e poi imparai in sardo De pesi cica sassozio impari poi imparai esti becanto sciudeo, non è che scippia cosa mera, ma adesso che sciudeo è uno dei sassozios po' tanto per toccare sul mondo della poesia forse si è spruzzi attivo su chi traballa, debruzzi che non è una droccia esatteso in tutto questa sardinia imparavamo, lo conosci meglio, e pregontavamo al suo professore che si strogai i tavanti ma i tavanti non un'orta sano, i tavanti non c'è un appuntamento a su mesi di importo, si stroghi di sì Noi ho cominciato nel 2007, nasciato nel luglio del 2007 e da inizio ho cominciato a fare recita di poesia ogni mese se ho arrivato, in modo che ho fatto il tempo che ho fatto c'è una parola chiena di su quindici se ho arrivato al suo numero 83 ogni volta che ho fatto recita stampato uno liburetto con tutte le poesie a chiena di recitata da dei poeti a chiena di recitare le poesie a San Zoro e in prusso ho fatto altri fuori di queste numerazioni poi eventi eccezionali abbiamo fatto uno fino a una parola di anni fa dove abbiamo andato nel mese di agosto a Siliuso e ho fatto un recital a Siliuso quindi altri set e otto recitali fuori di numero quindi sono arrivato più o meno a di contare una norantina di questo recital quando cantano l'ompe accento pensai in cantano su di attività in decano su di attività in decano su di attività tutto questo sattopio su e ha rimanato su bene i punti importanti si cosa sa me era in questa vita infatti se ho pregunto ai bologhi su professori in moe custa quando difficoltà rincesti a fai attopiai saggenti quando passato non so fai attopiai po' pappai, po' buffai po' una cosa de spazio po' anzi po' un genere di literario che è qui su di questi battenti di Bruso che è qui su di questa poesia puoi imprendere un libro di poesia tu fai scelti po' passioni ma questa poesia non vendi questa poesia non fai attopiai genti però non volevo narri un suo professore di spiega puoi dire su di gente che mi fai attopiai e ha commenti pure e ogni mese manco un'orto sanno tanti che hai avuto difficoltà e poi ci sono stati binti questa difficoltà sì non so ci causo di interessare un numero umano dei poetas e tutto Sinterland di Castello ma arrivato fino a Semini a Summaso arrivato a Sesto a Capoterra quindi gente che viene da Novago di Donia Locu teniamo su un giro di una cinquantina di poetas e un gruppo abbastanza importante di persone che viene da ascoltare e non scelte a recitare altri sui che non fonti poetas ma fonti amanti se questa poesia viene da ascoltare il recito nostro sui problemi sorganizzati questo sono certamente ci va ci va seguire con queste persone con 협 detained delle poesie palestra elettronica dentro le comprese sul libretto gli STOP poter sistemare delle poesie abruzzatั้le a livelli in base励e ai incoll Phillips e allora eventuali ricorrenze che voglio trovare credere questa memoria a gennaio c'è questo problema della festa dei femmini, questa ricorrenza dei femmini ha avuto un problema molto importante nel mese maio e quindi in ogni periodo c'è anche una poesia che tratta da finire questo problema che ha avuto il primo giorno. In questo gruppo nostro non ci ha avuto scelto di Campidanesi, la poesia è avuto sia in italiano che in sardo, però non ci ha avuto scelto di Campidanesi ma ci ha avuto amici che vivono in questa zona del castello ma avuto in Galluresi, in Lugodoresi ed ognuno può portare la poesia in fuori da solo. Il proprio centro già di questa trasmissione fuori da del premio che si apparece in questo tempo, c'è una scadenza che è in modo in questa gira che non è sbaglio, su quindici scade di presentare a destra ballo, ci sono i professori come si apparece in questo premio, ci sono i punti in regolazione e in questo momento come si apparece in questo momento. Questo premio nasce come si apparece quando nasce questa associazione, già noi abbiamo fatto un'altra associazione che voi, diosannai, è molta per altri problemi e con alcune queste associazioni pure abbiamo fatto una varia di premio letterari. Questo premio nasce poi oggi che hanno imparato il maggior numero di persone con la poesia sia in sardo che in italiano, quindi il nostro rivolgeo, il poeta è sardo, poi quanto riguarda la poesia in sardo, in tutto scrittionato della Sardegna, anche con il suo catalano di Alghero, su da Barchino, di Carloforte e di Galazzetta, su Gallureso, Sassareso e tutti gli altri, e poi le poesie in italiano, che è interessante, ci sono i miei concorrenti, ci sono i miei poesi dei suoi continenti, da tutte le regioni e da tutte le città dell'Italia, questa è una cosa interessante, poi se ho usato un spragendisi in altri, non scelto in Sardegna, ma in tutti i continenti, se non lo sa, il mio premio in italiano è stato vinto da uno di Milano, e altri premios sono vinto da persone che vivono comunque in continenti, cercano anche uno sardo buro che vivono in continenti e che ha vinto saprò più cosa, e questo che ho fatto, questa versione di sabato in sardo, sempre può avvalorare la lingua sarda, poi cercare da mantenere, non scelto in questa poesia, ma in questa questione è buro, tanto per il suo ganoso, e poi i sabato del suo premio, che riguarda la lingua sarda, non scelto in sardo, e invece il sabato in italiano, quando ci fanno ospiti, si chiedono dei continenti, cosa da più fa in italiano vuol rispetto a queste persone, se non capiscono nulla di queste questioni, ma che non ci fanno gente dei continenti, pensando sul nostro, se lo fanno tutti in sardo. Esprimiamo tutti i continenti, e comunque ti mandiamo a questo, non ci fanno come il teatro, che non fanno tutti i presenti sui premio, a parte dell'associazione che ha dato in dito. Quindi sono molto contento di questa partecipazione di queste persone, perché conosci la realtà della Sardegna, e in questo caso di Quartuccio, ci sono i nomi del suo premio, questo è il Quartuccio, e la scadenza è il quindici di questo mese di Cenavara. Professore, in realtà i numeri non fanno i sagali dati, però in questa società, avete preso 8, avete preso 8, i numeri sono pure punti dell'importo. I numeri del questo premio? Ma il numero del questo premio, noi siamo arrivati al suo numero 8, il premio, e non è facile, perché in realtà si comporta impegno e spesa. il premio che donavano, il premio su Indinai, poi c'è. Poi donare in modo, a chi viene da ritirare e vincere il premio per una menzione d'onore, dei voti bene, andrà da ritirare. Quindi il premio non funziona, però da una tassa possibilità a chi viene da questa gallura, a chi viene da questa locutore, a chi viene da questa zona di Sassari, che si può pagare questa spesa, questa benzina, poi andrà da ritirare il premio, e poi da questa maggior parte comunque non funziona, gente pensionata, gente che ha un reddito abbastanza basso, e chi andrà da ritirare entro di un mese uno o due premios, a questa fine, poi premios che non hanno mai importanza, cioè che non sia il premio, questo secondo premio, poi non è niente, e a noi si fa il piacere di chi andrà, lo vedo sempre del sabato, su premio, il sabato ammangiano, può donare la possibilità a queste persone, 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 sono so, sotto a questa gente, dopo che ti riporti, quando io andò, e poi andò a dei miei luci, a dove andò, poi andò a 59, anche a uno buono, e dovrai andare a finire solo, Altro numero, quante fonti che ogni anno partecipano? 10, 20, 30. A Cante Castello potete indurre alcune persone a non partecipare. C'è un altro fatto buono. E questo è proprio che questo è preoccupante. Il fatto che la maggior parte dei poeti si fanno anziani. Giovene su questa poesia, si fanno sempre per il spago. E quindi gli anziani, a un certo punto, tanti problemi dei saluti, il calanconi, ogni anno, si andrà pure. E il recupero, invece, secondo i savatti, che sono dei giovani, è più difficile a cercare di riuscire. vorrei proprio l'ompi a questa gente. Voi, questa gente che va di questa manifestazione, che si impegna da Parigi, ma partecipa pure. In questo caso, di chi si manda a ascoltare, a partecipare a questo recital, i tavubli questi, gente che... Io sono no, che non ero di Donia Varti, di Sardegna, e d'arri, per questo manco, di questa gente. Ma la sua data è andata da... Tranne Calanconi, da 50 anni in poi, il suo problema, come intenderanno prima, appunto i gruppi giovani. Questa poesia è stata coltivata in altri tempi, abbastanza mera in tutta Sardegna. Il debattito è dedotto alle classi sociali, sia che fanno persone analfabetiche, oppure altre persone che invece fanno una cultura, hanno studiato e hanno una professione di un certo livello. Non sono che teniamo su fin da nessuno che è arrivato il debattito, è una persona che è di una sessantina, è un analfabeto, scrive, scrive, compone di questa poesia che si dà imparare la memoria, viene da recitare, da ogni volta, a memoria, poi te che adesso non c'è di scrivere. C'è uno figlio che scrive questa poesia, poi da sua poesia, da dettata, in modo tale che noi, dopo Dio, si puoi mettere il libretto che doniamo gratuitamente a tutto questo che partecipa di questo incontro, di questo dubbio di cui vi ho su doni ammessi. voi siete uomini della scuola, formatori, educatori, doni insegnanti, tenendo questo ruolo. Canto vuoi raggiungere questa scuola? Canto vuoi e quanto a volte non vuoi fare la vostra poesia? Questa scuola è un po' di vai mera, è un po' di vai mera, ma in questo ultimo tempo penso che si affende di questo che da tempo fai. E adesso è un po' importante che questa poesia è coltivata e è coltivata sull'Igge, non c'è che studiare. Devo in tutte le scuole che ha un diritto e un semplice che fa in modo che le scuole tenessi una biblioteca abbastanza come da libro su, ma da libro su che vedi tipo spicciocchetto su però, non un libro su di storia, di geografia o di enciclopedia, ma un libro su che possano tessi l'Igge su di storia, l'Igge su può sobracere dei lici, non un libro su che uno appena accabato di studiare e buoni danno avanti poi ti arregò dal tuo impegno che ha dei più buoni poi imparare e poi tenere uno titolo di studio, ma un libro su che possano tessi l'Igge su compresiere in modo tale che poi subito che i dubbi che si abituano abitudini all'Igge e questo come da volta si è stato fatto bene e poi 18 anni può dirige come interregione la direzione didattica di Giba e quindi conosco bene questa realtà e ne ha pure in ogni scuola ho cercato delle donne comunque nella biblioteca in modo tale che i piccioccheri avessi indulli a prendere il suo libro e a legge i poveri geni i professori e se i professori si è andata un po' di vai in questo senso cerchendo di coltivare questa poesia poi questa poesia è un modo di trasmitire i sentimenti che una persona prova che si è andata con una certa tecnica con una certa metodica e questo mi ha fatto noi infatti questo programma è abbastanza pesante abbastanza corposo e su tempo può fare il gusto e mi ha fatto non c'è secondo me sia da poco comunque a Gattai è cambiata è cambiata i temi che si è andata tocca prima la maggior parte si è andata poesia di amore e di tipo però con una connotazione di tipo arcadico di tipo che è 1700 poi dal punto di riferimento il modello che tenia i pastori i messai che si è andata poesia e si è andata a Guss o invece si accostano a Debrusa con i problemi reali della vita di oggi e fino a quando si tratta del problema di migrazione che è sempre trattato in questa poesia il modo di trattare è completamente diverso quindi il concorso e il concorso che è veonoso sarebbe a far girare modelli di poetà diversi che si tratta prima di ognuno si tratta di un modello su di una poesia si tratta di una poesia che si tratta di una poesia cantata come si tratta di antichità e il modello su che si tratta di un modello di poetà è un scinticurso tradizionale se chi può cantare sia un tabellus ormai però da taus di un altro tempo è obbligo comunque c'è queste metas persone metas poeti che cantano modellunoso poesia italiana contemporanea e poesia traduzione ovviamente in italiano dei poeti che è niente del estero e quindi tenendo un modello diverso se ognuno cerca non ha copiato però cerca un modello diverso della poesia quindi poesia minimalista poesia con il classico verso tradizioni sarda c'è una cosa che mi mi prancio e bollo d'orraio a pizzo di questa cosa subito che faccia un recital di poesia di ogni mezzo credo che non ci indizia l'altro in sardinia che fa anche se si cosa che si pos sardinia vuole comprender il gusto ma do comprender fin se hai amico o amica che ascoltandosi in domo poesia di ognuno di noi vuole partecipare vuole ascoltare quanto dura un'ora due diciamo durata media è di un'ora e mezzo media e poi tornavo a fare una cosa che viene sempre ma il problema delle locali che non fanno disponibili siamo dei più serrai io tornavo a fare questa cabala di su recita ovvio su un obiettivo con bidu a spesa di associazioni può donare in modo non questa gente può pagare alcuna cosa può fare una tassa de coca cola una tassa de vino ma semplicemente può donare in modo a persone che parteci pantate pote chistionai frate quindi si si prima su un'altra mezz'ora dopo sul recital vuoi che ognuno può chistionare con esatto quindi si può con nosce su uno con esatto su chistionai di poesia chistionai di altra cosa pura però si io comprendo che subito che avendo sul recital e ognuno arriva alla scuola di sindi and da voi me da non scinti manco su uomini o chi non è con chi può tanto fianco invece se in questa maniera in modo di questionare di con nosce di creare amicizia di scambio su poesia scambio di altri problemi ma si crea una situazione che è un gruppo e non singolo di persone singole che ascoltano questa poesia senza depitare andai fu d'osu donosu dall'incuno inditto invece voi ammigo su poeta dei noi di su sul cisi che mancai conoscenti vago o forse non la conoscenti ancora questa bella realtà di quartuccio su poeta che andai a quartuccio voi voi partecipare in prima pressione a sur recital voi scrivere teni centri le poesie in su galassi non attento mai su goru da contare a tot e tante fai deprescrivi a poste deprescrivi a poste e tante bole fai si potete inserire a me quando mandare poesia con questa elettronica posso lasciare su mail che tengo deo e noi inserire su in scena su poesia se mi mandata 7 8 10 modo di scena essa poesia dei di boni e poi noi a elettronica ho messaggio telefonico su bocchini notene questa vostra elettronica se dice ora e su luco su recital e poi queste persone vengono scena che deve recitare voi ti mandare su Doniotta se l'elenco di tutti poesia che ci fu con questa poesia che siete assegnate a Isos e vengono il recitato e vengono se commenti funziona da cosa sono sicuro che questa cosa commenti in esatto si va a esatto in esatto quindi fatti bene bene us e fatti accogli in un meglio modo poeta non fa il pregiore che ci siano altre persone altre poetas che recitare poesia senza solo e intende cosa di esatto poeta questo e modo di imparare poi imparare arremonai impari poi imparai dunca amigos e amigas chi scrivese la poesia chi si braccia la poesia porreste di te vincese sui professori in social della cartesi angelo spiga andai su facebook poi ti mandai messaggio tramite facebook facebook e cali con una poesia 13 4 5 6 7 si scelta est chiaramente in parigi dice una scelta infatti doni otten dicero una scelta i poetas in genere recitare una poesia a doni due mesi sì un mese sì un mese no poi ti doni spazio ad ognuno così non se non si dice che l'ancuna parla in co vuole recitare buon udda e quindi così in modo che tutti possano partecipare a questa ricerca di questa poesia solo ma normalmente ci difunti 22 23 si arriva che l'ancunota 25 dipende c'è sempre l'ancunota che manca di doc non è possibile il problema delle salute l'ancunota che ha il problema delle famiglie e tutto però questo gruppo dei 50 c'è sempre a mesi entrerà Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In Rima o in Verso Libero? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.